Mauro Ferretti dovrà pagare 100.000 euro all'ex direttore generale Danilo Pagni. Il Tribunale Civile di Arezzo lo scorso febbraio aveva già concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso alcuni mesi prima nei confronti dell'Unione Sportiva Arezzo. Questa mattina è arrivata la sentenza di primo grado che porterà la società Amaranto, in primis il patron, a pagare la somma di 100.000 euro al direttore generale. In pratica si tratta dell'intero ammontare del contratto biennale firmato da Pagni nell'aprile del 2014 e interrotto nel luglio dello stesso anno. Danilo Pagni, assistito ai legali Alessandro Benedetti, Luigi Di Martino e Maria Clara Di Martino del Foro di Roma, aveva comunque cercato lo scorso febbraio di percorrere la strada di un accordo in extremis, soddisfatti per l'esito della sentenza illegale dell'ex direttore generale Amaranto. È una sentenza che riabilita un professionista, commenta il dottor Luigi Di Martino, legale dello studio Benedetti, agente FIFA, a fronte di un allontanamento ingiustificato.